Nuovo appuntamento con il Rocky Creek Challenge Pre-Race. La bisboccia per il compleanno di Luca Concelio non ha arrecchato da mia birretta Pronaro. Noto mastro birraio italo-portoghese la sua nuova gasser del 64. E scivolata giù per il percorso come una birra fresca d'estate. Non si può dire altrettanto per novex Davi al quale i direttori di gara avevano sconsigliato di mettersi al volante. Si ribalta davvero campione. Roveretto Bob pare aver sistemato tutti i problemi meccanici della sua Chevy K1500. Chiude la giornata Luca Concelio che sperava di smaltire gli effetti dell'alcol più in fretta. Si ribalta anche lui mentre un incontenibile novex Davi a bordo pista lo prendeva in giro. Ci vediamo tra poco sempre qui al Rocky Creek Challenge.